Una grande delegazione della diocesi di Teggiano Policastro, composta da circa 5.000 persone, ha preso parte quest'oggi a Roma all'udienza del mercoledì di Papa Francesco. A guidare le entusiasta delegazioni, il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca. Papa Francesco è arrivato in piazza San Pietro compiendo un lungo giro sulla jeep bianca, prima dell'inizio dell'udienza. Come ormai sta abituando tutti, il Papa ha strinto la mano ai fedeli, baciato i bambini e regalato sorrisi alle migliaia di persone presenti e che hanno affollato il colonnato berniniano. Il Papa stamattina all'udienza generale in piazza San Pietro ha svolto la sua catechesi sul significato salvifico della resurrezione di Gesù e sul perché senza di essa la nostra fede vana. La nostra fede è infatti detto si fonda sulla morte e resurrezione di Cristo, proprio come una casa poggia sulle fondamenta, se cedono queste crolla tutta la casa.